Tanti gli appuntamenti che animeranno la città di Teramo in questi giorni di fine inizio anno. Quattro grandi eventi a partire da questa sera con il pigro dedicato al grande cantatore terramano Iman Graziani. Nuovi ospiti anche in questo caso, quindi Morgan, Gio Bastianich, anche ospiti importanti. Quindi sicuramente ci aspettiamo tante persone. Il Capodanno Terramano sarà un capodanno bello, diciamo con tutti i ospiti della nostra città. Quindi anche direi intimo, ma insomma si ballerà, ci divertiremo sicuramente in Piazza Martiri. E poi l'1 e il 2 sono due grandi concerti perché è un rappresentante di lista. È un gruppo che ha cresciuto tantissimo, ha partecipato a Sanremo, ha una delle canzoni più importanti di quest'anno. Tra le prime 10 in classifica sicuramente per ascolti di quest'anno. E poi Max Pezzani insomma che non ha bisogno di presentazione per il quale veramente siamo riusciti anche con le 7.000 persone ad avere un evento credo unico su Piazza Martiri. Adesso io non ricordo di avere concerti da 7.000 persone in Piazza Martiri. Quindi credo che si è messo un nuovo limite su quella piazza che poi anche nei prossimi anni si potrà rincorrere. Come già accaduto in occasione di altre manifestazioni di piazza da oggi, 30 dicembre fino al 2 gennaio 2023, il Comune di Terramo ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. L'appello dell'amministrazione è anche quello di usare i grandi parcheggi a ridosso del centro. Sono il San Gabriele in San Francesco e Piazza Dante in particolare perché permettono di raggiungere facilmente la piazza principale, Piazza Martiri e anche in totale sicurezza. Per quanto riguarda le restrizioni abbiamo applicato solo la classica ordinanza per il divieto di somministrazione in vetro. La piazza sarà per la tre giorni, quindi 30, 31 e 1, potremo contenere fino a 5.000 persone a giornata, anche se probabilmente per il 30 e per il 31 non sarà necessario questo numero. e potremo mantenere anche i dehors delle attività di somministrazione che sono in piazza proprio perché arretrando il palco abbiamo una superficie maggiore in Piazza Martiri. Mentre per il 2 avremo la necessità di smontare anche tutti i dehors della piazza per avere la massima disponibilità di spazio necessaria ad ospitare 7.000 persone che sono confermate per Max Pezzali.